Nell'ottica di tutelare e salvaguardare la salute dei propri atleti e contrastare l'eventuale ricorso all'utilizzo di sostanze o pratiche dopanti, a partire dalla stagione 2015, il team di ciclismo professionistico su strada Villier-Triestina-Sella Italia si è affidata alla struttura di medicina dello sport di Lucca per adottare un nuovo programma che prevede una serie aggiuntiva di analisi del sangue che vanno a integrare controlli già previsti dalle normative sportive internazionali. Il protocollo di esami è stato elaborato dal dottor Carlo Gianmattei e dai suoi collaboratori della medicina dello sport ed è stato concordato con la Cycling Anti-Doping Foundation. Per ogni singolo corridore è previsto un programma di analisi di sangue a cadenza mensile con due obiettivi principali, monitorare lo stato di forma e di salute dell'atleta in ogni periodo dell'anno e verificare l'eventuale insorgenza di variazioni biologiche che potrebbero far sospettare l'uso di sostanze illecite per il miglioramento della prestazione sportiva. Nell'ottica delle nuove tendenze per la lotta al doping non si cerca più direttamente la sostanza ma anche la vada ha instaurato in questi atleti professionisti il famoso passaporto biologico. Quindi da alcuni anni i parametri vengono calibrati proprio per ogni individuo. Quindi in questo modo si può vedere se l'uso di sostanze strane oppure anche patologie che possono intervenire determinano delle variazioni del normale profilo sia ematologico che endocrinologico dei singoli ragazzi.